Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il Fatto. Buonasera, bentornato nei nostri studi al leader del patto per l'Abruzzo, Luciano D'Amico. Buonasera, professore. Buonasera e grazie. Allora, lei è intervenuto negli ultimi giorni su un tema molto importante per il quale del resto è in corso una fase anche di rinnovo della governance per quanto riguarda l'azienda più importante, vale a dire tua, che è appunto il tema dei trasporti. Trasporti con una serie di rilievi che dai banchi dell'opposizione in Consiglio regionale avete fatto e continuate a fare rispetto all'attuale gestione, ma soprattutto una serie di proposte, tra cui quella di un biglietto unico regionale. Qual è la sua fotografia dello stato attuale della gestione del TPL in particolare in questa regione, trasporto pubblico locale, poi parleremo anche di altre situazioni. Però, ecco, cerchiamo di far capire ai nostri telespettatori, agli abruzzesi, qual è lo scenario, quali rischi si corrono, invece quali sono le opportunità a suo avviso. Ma certo, volentieri, il trasporto pubblico locale, sappiamo tutti, è un servizio essenziale. Per l'Abruzzo lo è ancora di più, perché la struttura della regione, l'orografia della regione, le aree interne e i tanti comuni che sono nelle aree interne hanno assoluta necessità di avere un sistema di trasporto pubblico efficiente. L'altra premessa che vorrei fare è questa. Noi quando acquistiamo i servizi essenziali dall'acqua all'energia elettrica, al gas, e lo facciamo a Pietra Camela piuttosto che a Civita Luparella, paghiamo la stessa identica tariffa che se lo facessimo nel centro di Pescara. E allora per quale motivo l'acqua ci costa lo stesso a Pescara o a Civita Luparella, l'energia elettrica ci costa la stessa tariffa sia al centro di Pescara o dell'Aquila o di Chieti, sia a Pietra Camela, nonostante portare l'energia elettrica a Pietra Camela sia molto più oneroso che portarla nel centro di Pescara. E dicevo per quale motivo per questi servizi accettiamo il principio, e anzi riteniamo che sia un principio assolutamente valido, di pagare la stessa cosa indipendentemente dai chilometri che l'energia elettrica deve percorrere negli elettrodotti per arrivare all'utenza finale, mentre per i trasporti insistiamo nel praticare una politica tariffaria basata sulle distanze chilometriche. Sicché chi abita a Civita Luparella o a Pietra Camela e dovesse per ipotesi ad esempio raggiungere l'ospedale di Pescara per una terapia particolare, dovrebbe non solo subire il disagio di tre ore di viaggio in autobus, ma anche pagare un biglietto assai più oneroso di chi vivendo nel centro di Pescara può con l'autobus urbano raggiungere più comodamente e ad un prezzo molto molto più basso l'ospedale per avere magari la stessa terapia, per usufruire della stessa terapia. Da qui l'idea, la proposta che abbiamo, stiamo cercando di condividere con i consigli comunali di tutti i 305 comuni dell'Abruzzo, per proporlo poi in consiglio regionale, di creare un unico biglietto, il biglietto unico nel senso di poter viaggiare con quel biglietto su tutti i concessionari che operano in regione. Anche quelli privati? Anche quelli privati. Bisogna ricordare che in regione operano circa 40 piccoli e medi concessionari, oltre a Tua e a Trenitalia e questi concessionari hanno un loro sistema di bigliettazione, quindi bisogna sul modello dell'area unico, dell'area metropolitana Chiedi-Pescara, avere un unico biglietto che consenta di utilizzare tutti i mezzi e averlo a tariffa fissa. Noi proponiamo un biglietto di 1,40 euro, riprendendo dall'esempio di unico, valido per tutte le percorrenze, cioè indipendentemente dai chilometri percorso. Un biglietto a tempo che vale un giorno, si può immaginare un abru come stiamo guardando in sovrimpressione, possiamo immaginare anche un biglietto che valga due giorni, che valga tre giorni, due abru, tre abru, una settimana, degli abbonamenti non necessariamente mensili, insomma delle formule che comunque si basino su due principi, viaggiare su tutti i vettori e viaggiare a tariffa fissa indipendentemente dalle percorrenze chilometriche. Questo noi riteniamo che si possa fare perché i dati dell'ultimo quinquennio sulla bigliettazione del trasporto pubblico locale in Abruzzo evidenziano che il ricavo medio per biglietto è pari a 0,97 euro. In grosso modo in Abruzzo prima del Covid viaggiavano 44 milioni di passeggeri tratta, sono diminuiti sensibilmente, il ricavo da bigliettazione era grosso modo 44-45 milioni prima del Covid, adesso si sta assestando intorno ai 30 milioni che è esattamente corrispondente al numero dei passeggeri tratta, trasportati da tutti i vettori. E allora se abbiamo un ricavo medio di 0,97 che naturalmente sconta gli abbonamenti, le agevolazioni, le gratuità che vengono già adesso erogate, possiamo fare un piccolo sforzo aggiuntivo, naturalmente provvedendo alla copertura finanziaria, ma stiamo discutendo di somme assolutamente recuperabili nel bilancio della Regione perché parliamo solo di qualche milione di euro, ricordo sempre la legge Mancia 22 milioni 200 mila euro, con questa copertura finanziaria noi potremmo offrire agli abruzzesi la possibilità di muoversi nel territorio di tutta la Regione con una tariffa fissa, questo significherebbe davvero dare un sostegno alle aree interne, significherebbe introdurre un fattore di grande sviluppo del turismo, significherebbe poter far viaggiare gli abruzzesi e quando si può viaggiare tutte le relazioni che gli spostamenti consentono non possono che far bene all'intera Regione. Lei ha spiegato molto bene questa sua proposta, è intervenuto anche su un altro aspetto relativo alle aree interne, nei trasporti di Tua in particolare, ma insomma ha ricordato che ci sono anche altre concessionarie, si potrebbe in qualche modo rendere l'autobus anche un veicolo di collegamento tra virgolette sociale, perché per sostenere a volte anche in momenti di anti-economicità però la fondamentale vocazione sociale del servizio di trasporto pubblico, per esempio potrebbero essere aggiunti altri servizi, come far arrivare i giornali in posti dove non hanno più vita facile le edicole, dove ci sono problemi di logistica legati ai giornali e ad anche altri beni che sono tra virgolette di prima necessità sociale. Qual è anche lo spirito di questa sua proposta? Noi sappiamo che fra i tanti motivi di abbandono delle aree interne c'è la riduzione progressiva dei servizi, fra questi un esempio clamoroso, forse non rilevante come quello dei servizi sanitari, ma di cui è parimenti necessaria la soluzione perché comunque crea disagio nelle aree interne, ad esempio la disponibilità dei giornali e dei quotidiani. Ora in moltissimi comuni delle aree interne i giornali non vengono più distribuiti. C'è una legge regionale, una legge della regione Abruzzo del 1991 che disciplina il trasporto pubblico locale, che pone obbligatoriamente a carico dei concessionari, di tutti i concessionari, il trasporto dei giornali e dei quotidiani e dei farmaci nel caso in cui i vari comuni non venissero serviti da altri sistemi di distribuzione. Quindi si tratta di riprendere questa legge. Noi sappiamo bene che il problema principale non è tanto la consegna quanto il fatto che è necessario offrire a questi paesi una minima gamma di scelta fra i giornali, fra i quotidiani che vengono distribuiti e che spesso nei paesi delle aree interne si generano dei volumi di reso che rendono diseconomico il servizio. Ma come sempre noi dobbiamo affrontare questi aspetti nella prospettiva che un cittadino abruzzese che viva nel centro di Pescara o dell'Aquila o di Chieti o di Teramo o che viva in un piccolissimo borgo sulle nostre splendide montagne deve avere gli stessi diritti. costerà di più far avere il quotidiano, torno a fare l'esempio dell'abitante di Pietracamela, uso Pietracamela perché è un bellissimo centro montano della nostra regione. Benissimo, vorrà dire che quel costo, come accade per gli altri servizi, verrà ripartito fra tutti i cittadini abruzzesi. Io vorrei rendere evidente agli abruzzesi e a chi deve assumere queste decisioni di governo che questa logica non è solo una logica pubblica di garanzia dei diritti essenziali, ma è una logica che anima persino le organizzazioni private finalizzate al profitto. Se si compra qualcosa su uno dei tanti siti, non faccio i nomi per evitare pubblicità in diretta. Questo qualcosa viene consegnato nei tempi rapidissimi e nei modi ultra efficienti, sia che lo si debba consegnare a Pietracamela, sia che lo si debba consegnare al centro di Pescara. Questa logica dobbiamo applicarla ai servizi essenziali perché altrimenti non riusciremmo ad invertire quella tendenza allo spopolamento di cui pagheranno le conseguenze poi anche gli abitanti dei grandi centri urbani della regione, perché i grandi centri urbani senza un retroterra interno che possa in qualche modo far riferimento a loro per la rete dei servizi, per tutto ciò che rende funzionale a una comunità, poi il costo verrebbe pagato da tutti. Abbiamo poco più di quattro minuti, io due ne dedicherei però alla situazione aeroporto su cui siete molto preoccupati, mi pare di capire. Ma preoccupatissimi, questa è una cosa che stiamo dicendo già dalla campagna elettorale, abbiamo sempre avuto dal centro-destra delle rassicurazioni su questo aeroporto che fa faville, in realtà la situazione è questa, a settembre 2024, sullo stesso periodo 2023, l'aeroporto d'Abruzzo perde il 4,4% dei passeggeri, mentre il sistema aeroportuale italiano ne guadagna l'11%. Abbiamo oltre il 15% di differenza fra il meno 4 e il più 11 e questo denota l'assenza totale di una qualsiasi politica di potenziamento dell'aeroporto. Non possiamo immaginare di restare una regione manifatturiera, una regione industrialmente vitale senza avere collegamenti con le capitali economiche del Paese, Milano, Torino. Non possiamo immaginare di potenziare il turismo se le destinazioni continuiamo, per ciò che ne resta, a farle decidere da Ryanair. Non possiamo immaginare di collegare l'Abruzzo con il mondo se non intercettiamo un grande vettore internazionale con cui, attraverso un sistema di fideraggio, aprire le rotte da Pescara a tutto il mondo. È una situazione che inizia a diventare drammatica perché la differenza rispetto al sistema nazionale, ripeto, è di ben 15 punti percentuali. Un'ultima cosa dico sull'aeroporto. Nell'ultimo Consiglio regionale, nelle ultime commissioni consigliari si discuteva del mancato rinnovo dei vertici. Noi stiamo pagando un prezzo altissimo, lasciamo la saga senza vertici, senza vertici che dovrebbero decidere la pianificazione strategica, la programmazione delle attività dell'aeroporto, solo perché il centrodestra non riesce a mettersi d'accordo sulle nomine. È un costo che gli avruzzesi non possono tollerare. Gli ultimi due minuti sono per la notizia politica del giorno. Vale a dire Marsilio che sulle colonne del centro difende la sua proposta di legge elettorale che è stata incardinata in commissione proprio la scorsa settimana, chiedendo un segnale anche a lei, al centrosinistra, comunque alla minoranza, per un percorso che sia collaborativo, su cui Marsilio si attende una posizione che rispetti intanto il suo disegno di una regione dal collegio unico. Un po' mi stupisce leggere la prima pagina del centro oggi. In primo luogo perché nella riunione di commissione, commissione statuto e legge elettorale ovviamente abbiamo come opposizione tutti, non solo io come patto per l'Abruzzo, ma anche i capigruppo delle varie forze politiche che compongono il patto per l'Abruzzo, abbiamo dichiarato la massima, totale disponibilità a discutere di un progetto di riforma che non è il progetto Marsilio, è un progetto abruzzese di cui l'Abruzzo ha bisogno, è quello del collegio unico, piuttosto e di altre questioni. E poi mi stupisce ancora un secondo motivo di stupore, non so per quale motivo il Presidente Marsilio probabilmente ha sbagliato destinatari, non siamo noi a porre il veto e all'interno della maggioranza che ci sono forze politiche da quello che ci risulta e che stanno ponendo dei veti e si stanno battendo contro il progetto che è stato presentato dal Presidente Marsilio. Marsilio ha detto che questi veti sono stati rimossi nel programma elettorale. Ma sì, nel programma elettorale per carità, sono convinto che nel programma elettorale era prevista la riforma e così basta di fatto che le forze di maggioranza stanno discutendo animatamente, accanitamente per cercare di bloccare questo progetto di riforma elettorale. Marsilio può stare tranquillo, non deve aspettarsi da noi dei diritti di veto, noi non siamo abituati a porre veti se non quando si sperperano le risorse degli abruzzesi come sulla legge mancia. Non poniamo veti, siamo pronti e aperti alla discussione perché siamo convinti… Ma accettate anche la scadenza di approvarla in tempi brevissimi? Ma l'ideale sarebbe proprio approvarla in tempi brevissimi, questo l'abbiamo proposto anche noi nella scorsa legislatura. Le leggi elettorali non si fanno a sei mesi dal voto, si fanno quando si è molto distanti dal voto, quindi siamo pronti a discuterne, a lavorare con grande energia e con grande determinazione per arrivare subito al risultato. Ma i problemi purtroppo temo siano all'interno della maggioranza di governo. Grazie, grazie a Luciano D'Amico, grazie ai nostri telespettatori, torneremo domani alla Senato. Grazie a tutti. Arrivederci.